ok dark andiamo con tre torpedo da 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 signor sì signore oddio santo cosa che è la prima volta che vedo così tanta nebbia qui siamo in mezzo alle nuvole discesa a meno 10 gradi puntiamo verso le basi ok va bene sergente boldi togli manetta togli manetta visto che belli sti ciluroni sì sì ho visto ho visto ho visto come so belli mamma mia discesa cannelloni i cannelloni di mamma il problema è che non c'è nessuno c'è soltanto un altro g55 quindi non so se c'era famo ma se noi invece dovessimo fare gli ingordi e attaccare le light cruiser si può fare si può fare piuttosto di andare per le carrier altrimenti con le carriere non so quanti punti ti dice non mi ricordo in teoria un po di più di light cruiser per enti riesce per fuori tre light cruiser fai tipo una volta e mezzo i punti che faresti con la carter quindi allora è meglio andare di light cruiser no perché effettivamente con 3 p 108 sta mappa quale la rompi proprio perché fai fuori le tre carriere ciaone se non conquistano l'aeroporto prima che faccia fuori le tre carriere allora loro perdono e gg e lo so il problema è che non abbiamo abbastanza abbastanza mezzi ci serve un terzo italico aereo con 3 siluri ecco che vuole fare un tis di quello che abbiamo in mente di fare per il canale per il testo vabbè questo qui dopo lo metto su ma ovvio ma vuole fare un piccolo tis no il tis lo mettiamo più tardi quando abbiamo bene le idee chiare sopra sulle cose malvagie che abbiamo intenzione di fare il canale invece dovremmo fare qualche video anche su stil di vision non c'è più giocato tu hai provato la campagna si ed è stata una delusione terrificante ah si? si ma tutte quante? no l'ho iniziato la prima ed è stata veramente una delusione coccente comunque ne parliamo in un secondo momento ok metti fuori i flaps da combattimento così le lenti un po' comunque non avevo notato che questo mezzo qua le slat ah si? dove? eh si sono slat quelle ma dove? sulla parte destra frontale delle ali ah si si sono slat si si allora manetta 80 iniziamo la la torpedoran e te prendi le prime tre a sinistra io prendo le ultime due ok? e poi ne sgancio come le prime come le prime tre a sinistra vedi il primo gruppo qua primo gruppo quello frontale ok? esatto le prime tre una due tre le prime tre quelle davanti io prendo le ultime due praticamente quelle tutte a destra quindi tu ti prendi? esatto quella sull'angolo di destra e quella dietro subito? esatto e come cazzo faccio a colpirle tutte e tre queste qua? arrivi giù piano inizia a sganciare da tre chilometri tanto hanno tre chilometri di portata ti allinei ogni volta e sgancio un siluro alla volta sai che io ho avuto delle brutte esperienze vero? a fare questa cosa qui? mmm no si si fidati perchè ha avuto brutte esperienze? cosa le è successo da piccola cosa? adesso le vengono i retrolampi? i flashback? mi sono già venuti i retrolampi non riesco a farli fuori tutti con il primo passaggio eh quale non riesci a uccidere? è quella più vicina di... alla... alle tue due ok allora la faccio fuori io first out io prendo la tua ultima eh ok second out due fuori vado per il secondo gruppo terzo out richiamo viro a sinistra mamma che pelo tempest in arrivo occhio terzo out giriamo a sinistra giriamo a sinistra cacchio il tempest 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 mi ha missato di un pelo anche a me due targets out uno fuori eh il terzo non è andato terzo è andato tre light cruisers out ok io due il tempest non ci sta venendo a prendere eh si è stato ingaggiato eh l'altro si lo... oh osb2c a venti millimetri calibro 50 lei che sa... venti ai cannoni i'm fucking dead no oh oh no target destroyed dark 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 ci sta inseguendo ancora eh ma c'ho anche un P-47 in frontale ooooooh questo non si sembra bene no per niente 3 P-47 3 P-47 2 P-47 sb2c out eh mi ha dato fuoco e mi ha dato subito lì cerco di atterrare eh la vedo agra sopra di te aaaaah 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 gear down non Si ma guardate quanti gli alleati sono andati a farci l uu l u l l u l a Dall'hollandiaaaa perché non si tira su ho perso i piani di coda ho..o ohّ ho perso i piani di coda ho perso i piani di coda ho perso i piani di coda Charcot la disperazione della voce